ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su the room 4 old scenes sul canale vi avevo già portato the room 1 the room 2 all'inizio vi ho portato the room vr mi manca al momento the room 3 però insomma the room 4 segue la linea dei primi tre capitoli e da quanto ho avuto modo di notare andando avanti con questa saga aumenta esponenzialmente la longevità mentre il primo si finiva in un paio d'ore il secondo un tre ore e mezzo si superano le quattro per il the room 3 qua sembra essere una longevità oltre alle cinque ore salvo ovviamente giocare con gli suggerimenti attivi e vi mostrerò qualora non ve lo ricordaste in che cosa consistono in pratica se rimaniamo fermi per troppo tempo il gioco vede che brancoliamo nel buio usciranno dei suggerimenti che via via diventeranno più precisi un po come fanno anche nelle escape room dove io sono stato e eravamo in quattro ci siamo imballati a un certo punto con dei monitor ci comunicavano dei piccoli suggerimenti e qua la stessa cosa quindi ho setacciato ogni stanza della casa tranne quest'attico c'è tutta una storia molto onirica molto misteriosa non farò molta strada al buio quindi bisogna fare qualcosa vediamo subito se notiamo qualcosa fai clic e trascina lo schermo per guardarti intorno no fino adesso le meccaniche sono uguali quindi ci si guarda intorno ovviamente non ci si muove liberamente c'è sempre l'inventario sulla destra di solito poi c'è sempre il nostro oculare dovrò accendere quel riflettore ok quindi andiamo e lo accendiamo con questo tutorial penso che sia rotto ci vorrà cacciavite che nella mia valigetta perfetto clicca col destro per ridurre lo zoom quindi apriamo la valigetta e prendiamoci bellissimo c'è anche il temporale fuori bellissimo subito a qui non ho raccolto tutte le informazioni ricevute per la mia missione tra l'altro ci sono anche i testi tradotti cosa che non c'era nel vecchio ma veniva tradotto tutto volta per volta in questo caso anche i documenti invece sono tutti le texture diciamo sono tutte uguali quindi in questo caso lasciamo anche qua vediamo abbiamo un libro possiamo aprirlo bello ho messo queste cose con le etichette così era più facile diciamo fare qua abbiamo il maniero sì perché siamo all'interno di questo posto misterioso va bene perfetto possiamo smontarlo finalmente sto cosa 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 è stato meglio indagare perché due volte infatti quello che volevo fare prendo il mio cacciavite vedete che possiamo anche esaminare gli oggetti perché tante volte gli oggetti vanno usati in un certo modo o magari aperti adesso io vedete lo trascino poi vado a ruotare e vado a svitare la porta del proiettore cercando di capire che cosa sta succedendo allora vediamo un po che cosa succede qua dentro allora vediamo ci sono dei completa il circuito ok qua parte questo ok abbiamo completato il circuito è stata una cosa molto molto semplice ok era comparso un corpo qua ma poi nel 2 mi ricordo c'era una nave bellissima una nave pirata e si andava si andava insomma a fare le varie cose si aprivano i vari scomparti si doveva attivare l'ancora insomma e così via fa clicca una volta sulla casa delle bambole per esaminarla sì il corpo è sparito quindi resta proprio molto misterioso comunque esamina la casa delle bambole molto bello perché poi qua è pieno di cose che magari potete vedete apparire in qualche modo cercare di capire ok abbiamo aperto perché le varie cose poi sono tutte mi ha confermato sean caster che sono tutte a livello meccanico fattibili e poi ci sono anche queste parti così diciamo onieriche in cui dobbiamo guardare ci sarà sicuramente l'oculare che si usava anche nel vecchio a fare qua nel vecchio gioco tutti hanno i segreti il mio segreto è nascosto nella valigetta quindi che devo fa' vedete che ci sono queste cose che dovete capire qua c'è l'oculare ci scommetto quello che volete infatti l'oculare devo aprirlo prima di usarlo perfetto fai clic sugli oggetti per esaminarli ok dobbiamo aprirlo è molto più sofisticato di quello vecchio infatti qua vedete che dobbiamo andare ad aprirlo cioè a me poi fanno impazzire queste cose meccaniche così quindi molto bene questo lo possiamo usare comparirà probabilmente un tastino qua a lato con cui potremo guardare lo indossiamo e vedete che rompi il sigillo trova il nullo ok non certo questa roba tradotta in italiano c'era col sottotitolo quindi fai clic di nuovo per rimuovere ok dobbiamo usare sì certo questo è un suggerimento però niente a che vedere col suggerimento che poi ci dà il gioco in automatico quando ci perdiamo vediamo muovere un pelo così no e c'è anche questo ecco qua cioè praticamente stiamo andando in questa visione onirica con l'oculare all'interno della casa uh bella questa novità qua che ci fa risolvere le cose così ok vabbè adesso è già finito si apre meccanicamente vediamo che cosa troviamo la figata del gioco è che se volete veramente perderci sbatterci la testa lo dovete giocare senza gli aiuti ok qua abbiamo qualcosa che deve essere ricomposto credo riclico due volte per entrare nella stanza ah ok interessante praticamente rispetto al vecchio modello al vecchio modello al vecchio gioco ci sono queste stanze che si aprono con queste visioni oniriche con cliccando sulla casa perché infatti lo pubbliciscono come un gioco dove esploreremo un maniero come vi avevo detto all'inizio quindi qui si apre però qua è un libro maledetto con del testo stanno scaricando carrettate di macchinari mio marito sembra un bambino in un negozio di caramelle vabbè sì io non voglio leggere nulla di questa storia perché ovviamente il gioco non costa tanto dicono che sì qua mi sta dando un suggerimento perché dovrei usare questo però insomma è veramente veramente molto 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 carino posso disattivarlo questo sì però usando spesso questo si vede qualcosa però non lo so onestamente io poi non voglio neanche star lì a mostrarvi tanto questo gioco perché deve essere una cosa che dovete sentirvi di fare voi dovete giocare il gioco non è lunghissimo ovviamente come vi ho detto sforiamo le 5 ore ma se già adesso io ve ne mostro mezz'ora non ha molto senso infatti è il classico input che voglio darvi sui giochi tante volte li trovate in giro l'indizio tante altre volte non vi dice dove andare quindi vedete in questo caso io sono uscito sono tornato fuori e vai te a sapere che cosa c'è qua nella casa che magari io posso andare ad aprire qualche oggettino vedete che ho trovato un mappa mondo posso osservarmelo posso cercare di capire se posso interagirci già il fatto che mi ci faccia interagire mi ci faccia ingrandire la visuale è già comunque qua sembra più un aggancio per una chiave è più un indizio insomma quindi vedete mi aspetterei a parte cose più relative infatti mi fa capire che lì manca qualcosa possiamo tornare nella stanza e dare un'occhiata con il punto interrogativo si è ok infatti questo è il suggerimento c'è qualcosa sotto quello strano scrigno nell'atrio quindi tra poco vedete quando qua finirà ci mostrerà un'altra cosa quindi andiamo all'interno con l'oculare e vediamo che cosa c'è c'è qualcosa sotto quello strano scrigno nell'atrio infatti qua c'è qualcosa e vedete che abbiamo aperto qualcosa una moneta meccanica di ottone aha aha è diventata praticamente vedete questa è l'interazione con gli oggetti ok abbiamo trovato questo che probabilmente magari è da qua dentro si perfetto e mi sta aprendo qualcos'altro qua e qua si guarda ancora con l'oculare e c'è un simbolo che probabilmente andrà ricomposto quindi bisognerà capire in che modo girando questo si vedete che poi c'è anche un segnetto quindi qua ok c'è qualcos'altro da vedere sì sicuramente di là ok ok quindi anche dall'altra parte però si può agire però non si apre adesso a questo punto dovrebbe essersi sbloccato anche il consiglio numero 2 c'è un disco più grande intorno all'apertura del più piccolo di sotto ok vedete vedete cioè sono tutte cose che secondo me giocarle senza vedete che qua anche qua si gira e si può girare si può orientare c'è bisogno di capire un attimo tutto come funziona perché c'è anche questo simbolino ok ce l'ho fatta però il fatto di notare questa cosa che girava ho preso lo sistema di famiglia che secondo me va fuori eh sì infatti quello che abbiamo visto prima questa cosa magari senza i consigli che poi è un peccato che siano lì disattivandoli magari potreste sempre sentirvi tentati dall'attivarli però vi danno molto più soddisfazione quando lo fate quando ce la fate per appunto vostro e poi qua parte un altro enigma il sigillo il nullo deve essere qui se tengo premuto e che succede vediamo poi è fatto tutto veramente bene cioè ha delle chicche anche livello di meccanica livello di incastri meccanismi cioè è proprio fighissimo come cosa vedete qua che sale si vede proprio sotto che che viene sul meccanismo qua manca qualcosa quindi dobbiamo trovare qualcosa da mettere lì o più semplicemente possiamo magari prendere il cervo che c'è lì non lo so adesso appena ci possiamo muovere diamo un'occhiata il cervo lo possiamo prendere no ma lo possiamo probabilmente girare infatti girandolo c'è una freccia vedete proviamo a farlo coincidere e qua mi dava proprio una precisione millimetre che non è andato la da solo quindi ho dovuto proprio farlo coincidere io una moneta una moneta meccanica d'argento anche qui si apre e diventa così ed è un'altra cosa ancora cioè è veramente un delitto il fatto che io possa anche solo pensare di continuare e a spoilerarvi un gioco del genere che comunque dovete godervi su una cifra che comunque siamo intorno ai 7 euro quindi ragazzi questo se vi piacciono i giochi di questo tipo non che abbia dietro un gran mistero perché alla fine della storia parlano del nullo il nullo il nullo ci sarà il mistero certo sicuramente però è proprio il mettervi lì e scoprire le varie cose adesso c'è anche questa che va lì e mi aprirà l'altro infatti questo e vediamo un attimo come funziona questa parte qua quindi qua dovremmo andare a ormai sappiamo già il trucchetto dobbiamo capire sembra quasi un ancora vediamo così 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 no così continuiamo a provare giriamo non gira si così vediamo se c'è qualcosa che che magari si può scusate vediamo se c'è qualcosa che combacia con qualcosa ma qua vedete che fa lo scatto non ci permette la mossa proprio di di fino prima o poi beccheremo qualcosa andando così è proprio la cosa più brutta da fare però adesso appena il gioco rileva il fatto che ci siamo anche solo bloccati ci intervererà e e ci spiegherà due cose presumo infatti qua senza possiamo girare ma non vediamo niente all'interno vedete che adesso posso fare anche un doppio click ma in realtà non riesco a capire che magari tante volte c'è un giochino in cui dovete muovervi proprio con la prospettiva però mi sa di no in questo caso perchè qua sono vari movimenti che potete fare ma vabbè il gioco ci vedrà in difficoltà e a quel punto ci darà una mano qua non c'è più niente con cui possiamo interagire quindi dobbiamo per forza continuare qui ma non riesco proprio a capire perchè 1,2,3,4 e poi possiamo girare ancora quindi 1,2,3,4 ci muoviamo già sulla posizione nuova infatti vedete che adesso c'è già 1,2,3,4 1,2,3,4 c'è qualcosa che non mi torna usando l'oculare ho trovato un'altra apertura nello schermo nel lato e devo ruotare di nuovo ok e tra poco mi darà anche il secondo suggerimento io intanto continuo ma non mi non mi è molto d'aiuto questa cosa perchè probabilmente dovrò dargli una conferma o qualcosa sono delle costellazioni sono delle costellazioni infatti vedete io li sto girando un po' a caso ma in realtà vanno a completare delle costellazioni queste quindi c'è praticamente me le fa ruotare dovrei farle coincidere con qualcosa quindi vedete che sto già arrivando alla alla conclusione che mi ha dato ecco qua vediamo un po' così no così non c'è nulla che io non trovo ruotare il rischio di allenare costellazione con quel simbolo ok dobbiamo allinearlo con quel simbolo lì quindi lo allineiamo ma mi sembra un po' storto come cosa cioè dobbiamo prenderlo ruotandolo è vero non è una rotazione così a caso bisogna proprio capire come ecco ok ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho preso questo un pannello rannato di metallo perfetto anche in questo caso vedete che non è finita perché si va avanti e poi ci sono vari capitoli vari capitoli questo è andato a scena qua vediamo un attimo e questo non sembra facile ma in realtà sicuramente avrà qualcosa da utilizzare sembra anche quasi un cancello quindi vediamo no questo non posso usarlo qua però forse è qualche parte che va usata nel cancello nella casa fuori e rispetto ai vecchi titoli ai vecchi di The Room qua c'è più interattività perché si può agire in varie situazioni in varie stanze diverse questo è The Room 4 costa veramente poco perché ho parlato io per 7 euro o qualcosa quindi insomma però è un gioco veramente cervellotico e se lo giocate senza gli aiuti secondo me ve lo godete anche molto molto di più fatemi sapere che cosa ne pensate se avete gradito il titolo se lo avete già acquistato se dopo aver visto questo video pensate di appunto farci un pensierino io vi saluto e vi rimando al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao ciao